ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video youtube allora oggi sono qui per registrarvi un video dove prepareremo insieme il regalo di natale regalo natalizio per la clea mi dispiace che in questo video non c'è moltissima luce io poi anche durante i vacanze natale provvederò a sistemare questo problema che non c'è solo in questo video ma anche in altri video solo che ho cambiato stanza e adesso sta dormendo qua mio papà io sto dormendo nella mia vecchia camera perché non si è salito molto bene allora gli ho detto dormi pure sul mio perfetto che sei comunque comodo e tutto però adesso sta meglio quindi torna con mia mamma diciamo normalmente e io torno qua solo che tutti sti via vai vu poi tipo la notte del 24 andrò a dormire in camera mia perché appunto col fatto che passava buon natale io non posso dormire qua e sotto c'è il salotto dove mettiamo il sacco quindi vado a dormire in camera mia e quindi tutto un casino dal 26 dovrebbe tornare tutto posto però appunto vi chiedo scusa anche per questa cosa della luce vabbè e un'altra cosa scusatemi se ultimamente non sono usciti tanti video ma non so se si sente ma non sono stata tanto bene e quindi sapete quando io mi amalo non riesco a caricarvi tanti video comunque prima di iniziare breve premessa che non voglio neanche starci troppo diciamo parare di questo che palla avevo messo pure un ombretto dorato mi dispiace che non si vede vabbè questo video è ironico cioè io e la clea abbiamo un'ironia che nessuno capirà mai ma se vedete cose strane cioè è tutto normale per noi queste cose sono normali per lei quello che sto per fare è normale solo che andrò molto nel cringe in questo natale perché lei sarà in albania e quindi non potremmo stare assieme però comunque cercherò di fare il meglio perché lei appunto se lo porterà in albania e lo aprirà in albania allora vi faccio vedere cosa le ho regalato questo è solo il regalo della clea poi altre cose faremo tutto in altri video allora le ho regalato di Dior perché la clea mi ha insegnato il valore del lusso ma io le ho regalato apposta per parlare del lusso materiale ma invece la clea mi ha insegnato il valore del lusso nell'essere cioè allora lei ha questo modo ma lei lo fa in modo ironico ma in realtà è una persona umilissima buonissima però tipo quando va all'università lei dice mi videochiama e mi dice no ma aspettate perché qua ci sono i miei paparazzi i miei fans e tipo ridiamo tantissimo perché lei cioè è una persona che ha varie fragilità come tutti però ha un carisma che boh e poi quest'anno non ci siamo sentite per 4 o 5 mesi perché io mi sono arrabbiata per una cosa vabbè lasciamo stare e tuttora scherziamo tantissimo su questa cosa qua e quindi io non saprò mai come farmi perdonare per non averla cercata cioè non so tutto un casino però era per una roba abbastanza sciocca però si vede che avevamo bisogno di un periodo di pausa non lo so e quindi dopo che ci siamo tornate a risentire è stato tipo stranissimo perché eravamo due persone nuove e anche lei io ve lo dico tuttora che è un'altra Clea vabbè insomma cioè tipo io l'ho sentita a gennaio poi non ci siamo più sentite e quando l'ho risentita a maggio e dopo ci siamo sentite sempre sempre era un... la Clea di maggio era un'altra Clea comunque vabbè allora vi faccio vedere adesso vabbè Clea scusa ma devo far vedere i miei fans che cosa ti ho regalato allora eccola qua è bellissima è bellissima è stupenda Christian Christian Dior dal video sembra più bianca ma è un rosa cipri grande perché è una pochettina normale però è bellissima questo rosellino qua e bella mi piaceva tantissimo adesso la rimetto via nella sua scatola ok poi qua c'è anche la borsa che vabbè non ho ancora aperto ma perché io le darò tutto anche proprio le borse e tutto perché ci tengo tantissimo allora c'è la borsa di Dior la Clea è una ragazza che veramente è una ragazza tanto tanto umile forse perché anche la sua famiglia è una famiglia semplice con dei valori belli però è una ragazza cioè questo video non è solo tipo per il suo regalo ma proprio anche per dirvi quanto ci tengo e e però tipo lei ci tiene molto i cappotti alla moda ma non è che tipo ha tante cose o si vanta è super semplice come ragazza però comunque c'è questa cosa non lo so e e e non lo so c'è tipo questa cosa che anche che si vuole far regalare un rossetto di Yves Saint Laurent oppure tipo sua sorella le ha regalato il profumo di J'adore e tipo ogni volta che ci video chiamiamo me lo fa a vedere ma non lo fa con una cioè con un modo di presunzione lo fa in una maniera bella cioè non lo so è anche una persona super generosa non lo so e tipo quando ci video chiamiamo lei mi dice amore io sai che oggi quando mi annuseranno sentiremo sul mio collo i J'adore dei Bior tipo tutte cose vabbè sono ma il peggio deve ancora arrivare perché queste che vi sto facendo vedere sono i regali normali è dopo la parte succosa del video però andiamo per gradi allora dentro questa borsettina di Dior griffata Dior c'è questa che non ho ben capito se è un'agenda un notebook non so che cosa di Dior che è proprio tipo con la cioè con le grafiche di Dior tutto oro aspettate perché se no eccolo tutto oro con la stampa di Dior super carino ovviamente c'è la plastica e tutto e non lo tolgo qua poi ragazzi comunque dopo Natale verrà un tipo a costruirmi un muro e una porta qua non vedo l'ora non vedo l'ora ok poi ho preso sempre di Dior una pochettina che secondo me è molto carina secondo me quello che l'ho preso non basta per farle capire però questa è bellissima è di quelle fatte un po' grinzose non so se capite aspettate vediamo se si può far vedere così ecco con scritto Miss Dior è rosa è un rosa più scuro dell'altro è bellissima e anche qui ci può mettere make up ci può mettere tutto anche qua la cosa è griffata Dior bellissima qua sopra è soft touch bellissima la li metto qua dentro ok e ultima cosa ma non per importanza che secondo me è la cosa che ha anche la borsa più bella vi giuro che vorrei tenermele io ste borse ma tantissimo ma non lo farò perché no intanto guardate questa borsettina cristiana io non sono una ragazza che compra cose di lusso o che ha cose di lusso ma perché non mi interessa quindi avere queste cose qua di lusso vi giuro che mi sembra di avere tipo Armani in casa allora c'è la pochettina così di Christian Dior con anche il nastro il nastro è griffato Dior a proposito di griffato non so se si dice griffato beh a proposito di griffato posso lanciare una frecciatina così dato che non volevo esporre il mio giudizio su Instagram perché ho detto meglio di no e anche se questo video rimane su YouTube per tutta la vita e quella persona dovesse vedere questo video onestamente non mi interessa più di tanto perché è quello che penso realmente quindi non sono una persona falsa poi c'è chi sarà d'accordo con me e chi no ma punto uno non avevo bisogno di una multa di una multa per capire che persona era cioè quello mi ha solo confermato ma per me come ho sempre detto in tutti i video è un no è un no ma proprio c'è proprio no e poi posso dire pensati multata perché io e la Clea quando ci vide chiamiamo facciamo sempre amore ho appena preso il McDonald cioè ma vi giuro facciamo proprio così ma non è che lo facciamo in maniera vanitosa c'è il nostro modo di ridere se fosse qua lei capireste e quindi posso dire di non pensarvi liberi ma pensati multata dai fioi come si fa come si fa cioè anche se questo video non viene trasmesso su che ne so palazzo madoma con un proiettore cioè io non è che mi rimangio quello che ho detto lo penso allora vabbè a parte questo frecciatina che ogni tanto mi piace tirare frecciatine perché l'acquario ha anche questa cosa che manda frecciatine roba vabbè christian di or allora dentro c'è ho preso vabbè questi erano tipo omaggio e vabbè misti or eau de parfum un campioncino poi questi sono due bigliettini bellissimi dove gli scriverò delle cose ovviamente ma me li tengo in disparte perché guardate che bello misti or bellissimo e poi sempre un'altra fraganza sempre di dior e poi ho preso uh che bello anche questo vero poi c'è allora c'è la mini size del mascara iconico il dior show di dior questo qui è la mini size e dopo questo vi giuro vorrei tenermelo io ve lo giuro perché lo amo ma no al massimo me lo prendo io è il aspettate mamma mia è meraviglioso christian dior che roba guardate è il rouge rouge velvet rosso di dior cioè c'è pure la scritta dior adesso non so sicuramente non si vede ma sul rossetto c'è la scritta dior ed è la mini size che meraviglia che meraviglia e dopo e dopo c'è sempre tipo come campioncino questa qua di dior c'è questa cosa che può provare può fare non lo so se lo prova lei però secondo me è strafiga come cosa e poi va a scegliere solo il negozio comunque ci sono tutti questi test tutte queste cose vabbè ok allora io adesso direi che possiamo iniziare a incartare tutte queste cose perché questi sono i regali normali ma poi c'è tutto un dopo quindi dobbiamo passare al dopo ho deciso di tenere questa borsettina tipo da parte e ci metto dopo delle cose ho preso questa scatola che dopo incarterò tutta bella e ci metto nel fondo questo pacco che ho messo tutte delle cose e lo metto qua poi sotto ci metto questo che glielo avevo un po' spoilerato quindi non c'ho voglia di incartarlo questo è l'amore che ti voglio Clea no dai lei sa che io farò una cosa particolare non è come tutti gli altri regali lo capirete anche voi poi questo qua è la pochettina che vi ho fatto vedere cavolo non ci sta niente vabbè poi qua vi metto questo pacchetto che sono non lo so saranno 200 grammi non so se si vede sono caramelle di Halloween di boh almeno dieci anni fa che ho trovato e dato che non avevo voglia di andare a buttarle le regalerò alla Clea lei ovviamente cioè non so come dirmi ma sono tipo scherzi cioè queste qua ci avranno l'ebola dentro cioè non lo so sono ovviamente sono non è che le ho toccate o altro però sono caramelle di un Halloween di tantissimi anni fa e quindi se le ritroverà si chiudo e le metto anche le caramelle le metto qua poi le metto questo biglietto con scritto buon compleanno che auguri buon compleanno 11 sono già tanti forse sei già vecchio baci ziorino allora ziorino è mio zio e mi aveva fatto questo biglietto con scritto tanti auguri per il mio undicesimo compleanno è detto che la Clea è molto affezionata al mio ziorino gli metto anche questo quindi che non c'entra niente perché è il compleanno di 11 anni fa adesso ce ne ho 19 ma vabbè poi allora adesso vado a no spezziamo questo spezziamo così in metà ok questo è un coso di carta della carta che ho usato per incartare che c'è è una cosa inutile quindi alla Clea può servire sperate che lo accorcio un po' quindi lo inserisco dentro fate conto che lo scorso Natale gli ho messo una banana scaduta dico solo questo ok ah poi le ho stampato con tanto amore la cartina di una parte di Venezia le ho cercato perché io la Clea andiamo spessissimo a Venezia le ho cercato il canale grande e sono tante lo scritto lo vedi con questo canale e dove puoi andare ma è ovviamente ironico ok ironico io faccio sempre questi scherzi una parte di me che dovete imparare a conoscere se no bene bene se no non iscrivetevi al canale o disiscrivetevi io sto bene comunque perché la mia persona è fatta anche di questo questo ne lo inserisco sempre qua dentro e vabbè i due billettini Miss Dior li completo dopo e poi c'ho altre ah qua dentro la borsa di Dior volevo mettere dei cotonfioc sporchi ma sì ma farò dopo poi questa scatola la incarterò tutta cioè dentro ci sono tutte caramelle cose dopo la incarto bella gli faccio un bel pacco e gli farò anche un biglietto di auguri allora ci tengo a dirvi una cosa che poi anche l'è vera questo video quindi sì cioè questo non sono neanche la metà degli scherzi che io gli ho fatto e li farò tantissimi eccetera e adesso penso prenderò qualcosa che ho scaduto nel frigo e glielo metto anche dentro e poi volevo scrivere tipo un piccolo biglietto con delle cioè per ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me perché comunque questi anni non sono stati facili lei c'è sempre stata e poi ci sono anche altre persone a cui farò altri regali ma volevo proprio fare un video dedicato a lei dato che l'avevo detto anche tante volte che volevo fare un video intitolato proprio Clea cioè dove dicevo solo quanto le volevo bene ho pensato che questa potesse essere l'idea che fondeva le cose alla perfezione cioè secondo me è tipo bellissimo farvi vedere i regali però anche farvi capire la persona che è a lei e poi io ho preso anche dei bigliettini che vedrete in altri video gliele inserirò poi ho una carta con delle stelle quindi dopo quello glielo impacchetto tutto glielo faccio tutto bello c'ho il nastrino blu gli metto tutto carino però noi siamo così siamo un'amicizia di lusso come può essere tra virgolettato Christian Dior perché ci siamo l'una per l'altra nei momenti forti della vita però è anche un'amicizia veramente sciocca come possono essere delle caramelle scadute di Halloween di tantissimi anni fa o come dei cotonfioccusati ma non lo faccio per fare il video questa cosa cioè io sul serio gli metterò i cotonfioccusati sul serio gli ho messo le caramelle e tantissime altre cose scadute o tipo un rotolo di carta igienica li metterò cose di questo tipo perché la nostra amicizia è fatta anche di cose frivole cioè la maggior parte del tempo noi scherziamo su un sacco di cose e a volte facciamo anche tantissimo black humor che meglio che non dico qua su youtube perché vi giuro che potrebbero buttarmi giù il canale non il video il canale per quello che diciamo perché se qualcuno potesse avere accesso alla nostra galleria della chat ai messaggi agli audio e alle nostre videochiamate io penso che sarei già in galera e non sto scherzando perché non avete idea di che cose ci diciamo però niente Clea ti voglio bene sei arrivata fino a questa parte del video ti voglio bene tezzoro che dire cioè per dire per dire una cosa che noi diciamo a volte ti auguro figli deformi cioè capite che no come l'ho detto no no è tutto scherzare però diciamo ma non si scherza su ste robe però poi ci ridiamo sopra e poi diciamo ma ti rendi conto di che cose brutte diciamo cioè per farvi capire ma non è una cosa seria neanche ironica è proprio un black humor che però non va affatto ma noi a volte facciamo siamo pazze ma fa parte del gioco la Clea è una persona cioè questo video non è che tipo voglio annoiarvi ma per farvi capire quanto anche a volte l'amicizia possa veramente essere fondamentale nelle nostre vite cioè quanto magari un vero amico o una vera amica a volte può essere la soluzione a tutto cioè lei quando sono triste tipo la chiamo e io mi ridimentico del motivo per cui io ero triste oppure tipo anche lei è cresciuta cioè è migliorata su tante cose io sono molto felice di questo probabilmente anche io su lati belli su lati brutti e sono felice anche del fatto che lei non pensa mai a quello che è meglio per lei o quello che farebbe lei lei mi dà sempre delle risposte cercando di rispettare chi è lei come Clea però anche rispettando quello che per me è importante e secondo me quando trovi qualcuno che capisce quello che per te è importante hai vinto su tutto cioè lei tipo quando mi dice vedrai quando arriverà la tua mela lo capirai poi faremo non so delle uscite insieme o altre cose cioè io mi si scioglie il cuore e anche tipo lei mi dice che quando mi sposerò e se tipo lei è la mia dammigella d'onore lei avrà il vestito più bello di tutte le dammigelle però dovrà essere sotto il mio perché il mio dovrà essere più bello cioè non lo so io non so come nella vita ma lei la maddalena e altre persone che sono speciali nella mia vita spero che possano cioè l'amicizia posso continuare posso fargli fare la zia delle mie tre gemelle che farò le mie tre bimbe quindi cioè tipo io mi immagino che porto le mie tre figlie della zia Clea torno e sono tipo vestite in minigonna tacchi che cantano canzoni albanesi che mangiano cotte che bevono tè turco e che guardano che gli amani in tv ho il grande fratello Vip con la Clea cioè io mi immagino così a tre anni figuratevi se crescono con la zia Clea infatti installerò delle telecamere sulla mia casa futura senza dirlo alla babysitter Clea così quando le porterò della zia Clea lei sarà ignata del fatto che è sorvegliata mentre io e mio marito saremo in una crociera di pizza a rilassarci dopo il parto delle tre gemelle cioè vi giuro la nostra amicizia è così anche parlare in questo modo fare queste facce è strana però è bella cioè c'è un gatto che si chiama Woody e io la prendo sempre in giro perché mi ricorda i Wustel Woody invece lei lo ha chiamato così ispirandosi a Woody Allen che Woody Allen comunque ha fatto anche dei film che cioè non è che sono tutta sta felicità io ho visto anche l'ultimo al cinema cioè sono rimasta così ne ho parlato nel mio ultimo podcast trovate la playlist nelle playlist del mio canale e niente basta non ho altro da aggiungere solo vi dico circondatevi piuttosto anche solo di magari tre amicizie ma veramente belle piuttosto che tanti amici però che poi non ci sono quindi sì vi ricordo che se volete dare un'occhiata a Vinted vi lascio il link sotto nella descrizione ringrazio anche una persona che ha acquistato una felpa di Guess che mi aveva regalato la Clea ma gli ho detto che l'ho venduta perché i soldi li ho usati per comprare i suoi regali di Dior quindi no dai allora mi stava piccola sulle braccia con la felpa di Guess Clea quindi mi stringeva nei polsi e quindi l'ho venduta e niente spero che il regalo cioè in realtà è venuto fuori molto normale io invece lo farò molto più sporco pazzo strano però non riesco a far trappelare questa cosa forse perché mi sto autocensurando perché sennò youtube mi butterebbe giù il canale o questo video però sarà molto con altre aggiunte però quelle è meglio che le faccia telecamera aspetta vi mando un bacione e ci vediamo ad un prossimo video e fatemi sapere cosa ne pensate del regalo e di questo video e se volete fate anche tanti auguri di buon Natale alla Clea qui sotto nei commenti bacio ciao